Un pubblico da record ha accompagnato la terza ed ultima giornata della World Cup di ginnastica ritmica Pesaro 2019. Sono state oltre 5.000 le persone che hanno assistito alle finali delle individualiste e delle squadre. Uno spettacolo unico trasmesso in diretta televisiva sulla 7 dalle 14.10 alle 18.10, riprese che hanno portato a Pesaro e la Vitrifrigo Arena nelle case di tantissimi italiani. Complessivamente nell'arco dei tre giorni sono stati quasi 8.000 gli spettatori accorsi all'astronave per assistere alle esibizioni delle farfalle azzurre e delle circa 180 ginnaste che hanno preso parte alla World Cup, un'edizione che rafforza ulteriormente il legame tra Pesaro e la ginnastica ritmica internazionale. A chiudere la manifestazione, dopo la cerimonia di premiazione, il galà di chiusura curato dalla società di ginnastica Aurora Fano, a cui in occasione dei 150 anni della FICC hanno partecipato con le proprie coreografie anche i comitati regionali di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto. Colori, musica e grandi esibizioni per concludere un'edizione della World Cup da incorniciare. Ma veniamo ai risultati di questa tappa per le squadre. Le farfalle azzurre hanno stregato il pubblico della Vitri Frigo Arena che le ha accolte in pedana con grande calore ed affetto in un tripudio di bandiere tricolore e core di incitamento. E le farfalle hanno ricambiato l'affetto conquistando l'oro nella finale nell'esercizio con le cinque palle davanti a Russia e Giappone. Meno fortunate le farfalle nella finale con i cerchi e le clavette dove infatti si sono classificate quinte dietro a Giappone, Israele, Ucraina e Bulgaria che ha strappato la palma d'oro. Per quanto riguarda le individualiste le finali di specialità sono state un vero e proprio affare di famiglia con Dina Averina, Russia, prima nella finale al nastro e alle clavette mentre a Rina Averina si è aggiudicata anche l'oro alla palla e al cerchio. Ottima l'italiana Alexandra a Giurgi Ugulese che nell'esercizio delle clavette si è classificata seconda conquistando una preziosa medaglia d'argento. Bene anche Milena Baldassarri, settima nella finale con il cerchio e quinta in quella con la palla.